Ciao Daniela! Ciao Fabio, ciao a tutti! Come stai Daniela? Benissimo, molto felice di essere qui. Lo sai Daniela che sei stra stra desiderata nella mia pagina, quantomeno nella nostra community sei diventata veramente un personaggio graditissimo e le persone tra l'altro ti apprezzano anche quando si rivolgono a te in prima persona, quindi ti ringrazio anche perché tutto questo ne vale poi anche la mia immagine, quindi grazie per migliorare la mia immagine giorno per giorno. Invece grazie a te per migliorare me stessa perché queste costellazioni migliorano un sacco, tutte, tutte. Ci diamo una mano a vicenda, arriviamo subito al punto, come ho detto più volte il 95% delle persone che si rivolgono a me si rivolgono per dinamiche che vogliono risolvere in abito economico e lavorativo, ma ci sono delle persone e in quel 95% questa cosa le riguarda comunque, questioni collegate all'ambito coppia, ambito rapporti sentimentali. Ogni tanto durante le live parlo di una cosina, interruzione di comunicazione con un padre in genealogia. Ok, si parla di comunicazione e spesso parlo di questo. Parliamo però ora di quella che è la comunicazione nella coppia. La comunicazione quando manca, manca tutto. È vero, ci si può intendere con uno sguardo, ma si deve parlare. Ebbene, con la tua esperienza che è grande, cosa ci dici rispetto alla comunicazione tra partners? Sì, allora quello che dici intanto confermo che lo vedo anche io spessissimo nelle richieste di costellazioni che arrivano. Il tema della comunicazione è un tema importante, perché è vero che la coppia comunica in tanti modi, ma spesso tutti questi modi sono un po' bloccati dalla stessa dinamica. Nella mia esperienza, la prima cosa che cerco di andare a vedere sempre, andare a vedere che dinamica c'è stata nella relazione e nella comunicazione, anche sotto ogni sua forma, con i genitori. Proprio con il papà e con la mamma. Infatti, ti volevo rivolgere proprio questa domanda, proprio il rapporto che c'è tra comunicare in coppia e ciò che c'è stato o non c'è stato con i genitori. Giusto? Sì, con i genitori, cioè io con i miei genitori, ma anche tra i miei genitori stessi, cioè quindi nella coppia tra loro due. Perché spesso la mancanza di comunicazione è anche collegata con il riconoscimento. Quanto io mi sento vista e riconosciuta dal mio partner è libera di poter comunicare con lui o con lei. Quindi volevo dirti solo, è fondamentale che ci sia stata una buona comunicazione tra papà e mamma, in poche parole. Che si siano guardati, che si siano visti, che si siano riconosciuti, che si siano permessi di entrare in relazione uno con l'altro. E allora lì io posso anche darmi il permesso di entrare in relazione con i miei genitori e mi posso permettere di entrare in relazione con il mio partner a ogni livello, comunicativo, verbale e non verbale. No, volevo dire, ci fai degli esempi. Siccome le persone fremono nel vedere i Playmobil, perché questa volta la dico corretta. I pupazzetti, dai, te lo concedo, a te concedo tutto. I pupazzetti, dai. Allora, sì, mettiamola in scena. Un esempio, un esempio. Sì, un esempio, mettendola in scena. Allora, prendiamo una figlia, ok? Aspettate che io mi devo sempre settare con questa camera, ok? Per chi ci guarda, sappiate che i programmi di questo genere, cioè tu vai a destra verso sinistra, gli vedi il contrario, quindi portate pazienza. Esatto. Parto con la prima e poi vado con le altre. Allora, vediamo una figlia e la mettiamo in campo, la mettiamo dentro il campo. Che quindi questa può essere la persona che ci sta guardando, dire mi identifico in… Esatto. Immaginiamo che la figlia è la persona che ci sta guardando che fa una costellazione, chiedendomi come mai non mi sento vista, non mi sento riconosciuta, non mi sento capita, non riesco a parlare con il mio compagno, lui non mi guarda, non mi ascolta, non mi dà importanza, non mi fa regalo, tante cose. Soprattutto il senso di non sentirmi importante scelta, quindi quella è la mamma. Sì. E mettiamo il papà. Partiamo dal basic, ok? C'è un motivo, Daniela, per questi colori o un po' casuale, tra virgolette casuale? No, no. In una costellazione nulla è mai casuale, mai. Certo. I playmobil, o più pazzetti che si chiamano, sono neutri e comunicativi allo stesso tempo. Comunicano attraverso i loro colori, i colori dei vestiti, i colori dei capelli e comunicano anche la loro posizione fisica, da dove guardano e i colori non sono mai a caso, anzi dai colori noi abbiamo tantissime informazioni. Le informazioni che abbiamo dai colori di questa costellazione, la nostra costellata è rossa, quindi questa dinamica le crea un po' di rabbia nella vita, è ai capelli gialli e quindi possiamo farci qualche domanda su come tutto ciò che sta accadendo la sta influenzando a livello mentale, magari anche di nervi, di stress, di mancanza proprio di riconoscimento che non sa come gestire, non riesce a capire dove deve andare. Io credo, Daniela, che molte persone dicono ecco questa è la classica costellazione che parla anche di me, mi sono sicuro. Anche di me, anche di me, anche di me. Oggi, scusate, vabbè, noi finiamo sempre così, lo vedo ora, io sono vestita di rosso e ho i capelli biondi, va bene, va bene. Io sarei qua da blu, ti faccio da papà oggi, ti faccio da papà, sono di blu. La mamma è questa qua verde, il verde ci dice tante cose, ci parla di una perdita di territorio o sua o nella genealogia, potrebbe anche essere più indietro. La mamma potrebbe avere avuto le stesse dinamiche della figlia, vedete che sono tutte e due con i capelli gialli e questo ci dà una somiglianza dal punto di vista di dinamica di come si affronta un problema. Il papà è azzurro, tu sai meglio di me l'azzurro cosa ci indica. Il fatto che sia castano è che molto ci trasmette il fatto che è molto nell'emotività in relazione alla dinamica. Magari spendiamo due parole perché ti ho detto sai cosa indica? Mi permette, visto che l'hai girata a me, mi permette di dire due o tre cosine? Cioè l'essere di azzurro che non vuol dire che adesso basta, smetto di vestirmi di azzurro perché voglio dire io amo l'azzurro, molti lo sanno, indica molto il bisogno di avere una comunicazione con il padre. Può essere magari che il dramma non riguardava quel papà che stai facendo vedere ma magari riguardava un papà di tre generazioni fa. Però ecco quello è il cielo, il cielo e il sole sono il padre ma può essere anche un problema di liquidità perché il blu è l'acqua, i liquidi, liquidità è la stessa cosa. Insomma è un mondo vasto. Prego Daniela, mi avevi invitato tu e ho risposto. Sì, hai ragione, hai ragione. Tra l'altro confermo quello che tu dici che potrebbe non essere qualcosa che riguarda direttamente il papà perché se guardiamo la posizione fisica che è la seconda cosa che noi guardiamo di primo build dopo il colore vediamo, non so se lo dovreste riuscire a vedere abbastanza bene che questo papà ha il braccio destro, il suo braccio destro, tirato un po' indietro. Non so se lo vede, si vede, aspetta che provo un po' a spostarlo. Ok, non li sposto troppo perché per il campo è importante che stiano così. Quindi vuol dire che nella sua genealogia, lato destro, quindi probabilmente paterno c'è qualcosa che lo trattiene. Ok, c'è qualcosa che lo ferma in relazione alla sua vita. Se devo essere sincera, questi primo build si sono messi in questo frangente se lo vedete anche la mamma ha la stessa dinamica al braccio indietro però l'è al sinistro però l'è al sinistro, quindi ci indica qualcosa nella linea del femminile. Io lo vedo, è girato verso di me, ve lo giro in realtà anche il primo build della nostra costellata ha il braccio sinistro leggermente indietro e quindi ci dice che guardate la posizione, guardate mamma e figlia sono diverse per il colore del vestito ma vedete che la posizione è identica. è impressionante, ci sono praticamente identiche, è vero? Riportiamole al loro posto. La figlia sembra anche un po' piegata, forse ci sta dicendo qualcosa Daniela, dimmi. Sì, quando un rappresentante è un pochino piegato avanti e sta guardando per terra ci dice che c'è da guardare a un lutto che può essere di diversi tipi e quindi soprattutto che tra lei e i genitori lo mettiamo Per diversi tipi possiamo intendere quindi aborti, morti bianche, premature una persona legata a lei, ok Esatto, e tra l'altro lo vediamo che è proprio tra lei e i genitori tra lei e i genitori questo aborto è un aborto quindi noi cosa possiamo, che informazioni abbiamo? Indubbiamente Sì Perdonami sai, a parte la tua altissima sensibilità che si è sviluppata negli anni per chi magari vuole saperne di più tornati in una live precedente non so quale una o due precedenti lei ha parlato dello yoga di come si è sviluppato il talento poi delle costellazioni come hai fatto a capire che quello è un aborto? Allora, perché è bianco quindi il fatto che sia bianco indica un il fatto che sia morto molto presto e il fatto che il primo abil guarda alla madre e non guarda invece al padre e alla sorella quindi è qualcosa che riguarda molto la madre dal punto di vista fisico e per quello che è un aborto non è una morte bianca e quindi mi dice che vabbè c'è un po' di mia sensibilità c'è un pezzo di sensibilità mia che mi arriva e mi dice che è il campo però che dice che è un aborto Diciamo che la mia è stata più una domanda per far capire alle persone quanto la tua sensibilità ti aiuta ecco ti ha aiutato negli anni Sì, in realtà è sempre condivisa con il costellato nel senso che anche la persona che costella sente quello che sento io perché siamo dentro allo stesso campo e questo è molto importante da sottolineare però lo sento solo io Mi permetto di mettere intanto anche il contatto di Daniela per chi desidera sperando che ci sia spazio nel tuo calendario Siamo un po' pieni ma va bene E mi dicevi a mo' si fa anche l'estate e quindi il contatto per chi è interessato a una costellazione da parte di Daniela ecco Prego Daniela prosegui pure Scusate devo mettere il premobile dell'aborto vicino alla mamma perché il campo chiede questo altrimenti non mi si muove la costellazione Quindi tornando alla comunicazione e alla relazione con paio e mamma cosa vediamo qui? Che la figlia guarda i genitori come a dire cosa fai? Mi guardi? Mi vedi? Mi riconosci? Mi dai il mio posto? La mamma però guarda il papà e se vedete è anche leggermente dietro il papà e guarda solo il papà sua figlia non la guarda il papà guarda però fuori campo quindi sta donna non è vista da papà e mamma e quello che accadrà nella sua vita è che la vita non la guarda perché il primo sguardo è della vita verso di noi e perciò attirerà partner da cui dovrà sempre lemosinare lo sguardo e non si sentirà vista e riconosciuta dal partner in primis ma in realtà da tutti un po' in generale e non si sentirà mai compresa perché nella primissima relazione non si è vista non si è sentita vista scusatemi e non è riuscita a essere compresa nella prima forma di relazione con la vita proprio perché loro guardano da un'altra parte e non si guardano nemmeno fra loro il primo amore non si scorda mai ed è i genitori in pratica è certo 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 e quindi se noi per ipotesi proviamo a inserire un partner eh infatti volevo dirti di un partner sì aspettate che lo sposto un pochino ecco prego perché si vede ecco perfetto sì quello è un partner che non casualmente è verde è verde come la mamma quindi rimanda rimanda in stimolazione le stesse dinamiche della relazione con la madre no? sì e lui dove guarda però cioè non parla da sola questa costellazione no? cioè guarda da tutt'altra da tutt'altra parte esattamente come fanno papà e mamma e questi due se li senti io spero che riesci a sentirli come li sento io ma sono sicura che sì lo vedi che non c'è una relazione tra questi due non esiste uno è proprio fisicamente da un lato e l'altro fisicamente dall'altro c'è questo qui è la scena dove lui non so con tutto rispetto deve guardarsi la partita di calcio lei si ripiega su un film o su un libro che tratta questi argomenti perché comunque non c'è da parlare se non ecco è pronta la minestra tristissima come situazione sì è tutto a origine però dal fatto che papà e mamma non la guardano poi qui io andrei a guardare prima la relazione con la mamma perché lui è verde e quindi mi dice che devo prima andare a vedere come mai la mamma non l'ha guardata chi guardava la mamma invece che a lei mi permetto di dire una cosa Daniela perché questa cosa io ci tengo ed è parecchio importante tra partners e non solo che ne so Maria Lucia parlano del proprio partner come eh lui non mi capisce lui non non mi dà attenzioni e questo e quello o viceversa lui si rivolge dicendo così da questa costellazione si capisce una cosa che in realtà Maria Lucia o chi per loro stanno loro mantenendo uno schema che porta ad avere un partner così ora non è che stiamo dicendo è colpa tua qua e là però questo ci apre a una grande speranza a una grande possibilità che ipotesi Daniela ci può dare o comunque ecco queste tecniche ci possono dare di dire ma se tutto dipende da me se io sto permettendo questo io mi posso anche dare il permesso di di cambiare e questa è una è una grande opportunità che abbiamo che è esattamente quello che facciamo con una costellazione o con tutte le le tecniche di questo tipo cioè anche perché spesso le persone almeno per la mia esperienza ma penso anche per la tua non è che capita con un partner è uno schema che si ripete con i partner della vita in generale quindi è uno schema che bisogna andare a guardare all'origine adesso poi noi ora stiamo guardando con papà e mamma però in una costellazione personale andiamo a vedere qual è l'origine vera magari anche in relazione a 5-6 generazioni fa vediamo da chi sono davvero trattenuti questi due perché dobbiamo andare indietro questo è come se mi dicono Daniela vai indietro a guardare guarda che c'è qualcosa dietro sarei è che ci siamo imposti tra noi di fare 13-14 minuti siamo già a 18 e mezzo esatto si Daniela che possono essere pronunciate in questi casi non so dimmi te poi anche se vuoi dirla sta cosa sì allora in realtà è proprio come funziona una costellazione e il perché una costellazione funziona perché noi qui in una costellazione dentro il campo morfogenetico andiamo a dire delle frasi molto precise e queste frasi vanno oltre il tempo e lo spazio quindi io posso parlare e dire queste frasi fare queste portare alla luce queste dinamiche a tutta la famiglia senza in realtà dover andare dalla mia famiglia lo faccio io è un lavoro che faccio io personalmente e quindi io qui posso dire posso ammettere magari dopo 40 anni che ce l'ho dentro ma che non riesco a dirlo cara mamma tu non mi guardi cara mamma tu non mi guardi hai detto sì guarda l'aborto la mamma forse guarda l'aborto guarda il papà guarda da un'altra parte la persona la nostra costellata può dire cara mamma per favore guardami io sono qui sono tua figlia guardami il figlio deve chiedere ma deve dirlo con la persona davanti tanto per dare dei suggerimenti o può dirlo immaginandola cosa può fare allora si possono fare tante cose si può fare una costellazione e dirla qui davanti al campo morfico quindi la persona direbbe le farei dire guardando alla madre questa qua verde cara mamma tu non mi guardi però potete anche chiudere gli occhi e dirglielo sentirla davanti a voi e dire alla mamma tu non mi hai mai guardato non mi hai mai fatto sentire amata e questa è una restituzione è una liberazione restituzione e liberazione possiamo anche in realtà adesso che l'ho fatto dire io sento proprio un po' un bisogno diverso di fare così la mamma si porta sempre dietro il suo aborto però queste lo guardano tutte e due vabbè ricordiamoci del nostro obbligo che ci siamo dati se no qua animo avanti se le metto una di fronte all'altra la figlia si sente un pochino di più guardata si sente più libera di poter ricevere dalla madre vedete che adesso la mamma la guarda papà deve andare un po' indietro perché non possiamo occuparci di questo adesso è come dire se non ci fosse l'aborto in quel senso o se io o se io ho pronunciato la frase forse volevi dire se io ho pronunciato quella frase quella frase dentro il campo morfico dove io come mi libero di un peso della relazione con mia madre che è dentro la mia parte più inconscia che agisce senza che io mi renda conto e crea il programma quando io lo rendo reale lo porto alla luce questo comincia a sconfigurarsi allora mia madre mi guarda comincia a guardarmi e allora io posso fare un po' di più posso dire cara mamma io prendo da te tutto quello che posso tutto quello che mi vuoi dare prendete nota prendete nota di queste cose che dice Daniela sono frasi importanti dei video miei che vengono messe queste immagini di carta e penna perché sono importanti sono strumenti che Daniela vi sta dando io in realtà dico al di là delle costellazioni ogni tanto di andare un po' dentro se stesse e entrare in relazione con i genitori e dire quello che sentiamo quello che proprio ci viene dire anche ti onoro prendo da te i tuoi doni accetto la vita che mi hai dato accettare la vita è andare nella vita è andare nelle relazioni guarda ti dico una cosa Daniela è personalissima ma posso dirla tranquillamente allora io ho una sessione dove alle persone faccio pronunciare due frasi particolari in cui la persona dice ai propri genitori poi se lo vuole dire alla singola mamma al papà uno lo può anche fare insomma dice tutto quello che io ho preso di uso un termine un po' brutto ma fatemela passare di negativo di programmi pesanti vi dicendo ve lo restituisco perché non mi appartiene anche perché si è creata una vittima in più ma senza trovare soluzione beh quando io perché non è che gli esercizi li faccio fare le persone e io non li faccio prima tra l'altro nascono partendo da me però io li faccio mi distendo pronuncio una frase dico ve le restituisco queste cose ma mi credi e lo dico qui davanti a tutti ogni volta a livello intestinale la parte dell'intestino della donna sento una forma di liberazione che va dall'alto verso il basso come oh finalmente sì è questo che dovremmo fare e non diamo colpa assolutamente ai nostri genitori no 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 certo certo tra l'altro io in me per esempio io lo uso molto io uso proprio ti restituisco tutte le azioni pensieri emozioni credenze connessi a questa cosa che è successa questa bella devo perché comunque agiscono in noi anche le emozioni che i genitori hanno provato in relazione a qualcosa che a loro è accaduto fa parte del nostro programma no genealogico e quindi questo lo possiamo fare in realtà con tutti in una costellazione anche al sesto ascendente che ha avuto una problematica di un certo tipo possiamo dire restituisco a te tutte le tue azioni reazioni emozioni delle volte è importante anche restituire le credenze di come una relazione di coppia dovrebbe essere per esempio perché spesso noi siamo nella credenza di come i miei genitori hanno pensato che la mia relazione di coppia dovrebbe essere in modo che loro possono star tranquilli ci sono tantissimi programmi che dobbiamo andare a vedere per proprio sconfigurarli per portare luce trovi spesso situazioni Daniela dove la persona cioè vedi proprio che senza che nessuno se ne renda conto rispetta tra virgolette quello che era il pensiero magari mai detto dalla mamma dal papà ma che comunque apparteneva alle convinzioni dei genitori cioè del tipo io ci ho proprio attirato il partner che volevi tu mamma ma non è quello che voglio io succede spesso vero succede spesso ma è facile capire perché succede spesso quanti di noi quanti di noi io sono la prima ha sentito dire la mamma adesso che sei sistemata sto tranquilla l'abbiamo sentito tutti cioè i nostri ma io e non è questo non è un giudizio di nessun tipo è proprio il fatto che è un programma perché il genitore agisce per amore che vuole vedere sua figlia felice o suo figlio felice però per il figlio agisce la credenza di come lei sa o lui sa che il genitore proietta il partner che va bene per te cioè è tutto un incatenamento di credenze e di convenzioni che poi diventano il nostro programma e non riusciamo a essere liberi di essere chi siamo di come vogliamo manifestarci noi per non parlare di quelle situazioni che tra l'altro Hammer medicina germanica ne ha parlato ampliamente di ma quando mi dai un nipotino o una nipotina di solito un nipotino che voglio diventare nonna e intanto la persona manda giù il rospo perché magari o lui ha lo spermatozoi spermatozoi deboli o lei ha problemi di un altro tipo ma non li vuole dire o semplicemente non ci sono i soldi e non vogliamo venire a vivere in casa tua mamma ma non te lo voglio dire ce ne sono tante di queste situazioni Daniela vero? sì 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 guarda io per esempio tanto voglio dire abbiamo sempre parlato di Fabio possiamo anche parlare di me io per esempio sono un questo chiaro esempio quando a un certo punto a 40 anni la mia famiglia si era assegnata che io non avrei avuto un figlio sono rimasta incinta e gli ho spiazzati tutti no Daniela è incinta come è possibile adesso non ci crediamo sì l'hai proprio detta tu dopo che tutti hanno sperato per anni che io facessi un figlio io non avevo mai voluto farlo in quel momento io sono rimasta incinta quando nessuno se l'aspettava ma probabilmente quando tutti avevano rinunciato a darmi quel programma e io avevo riconosciuto col mio percorso personale quel programma avevo restituito la mia famiglia le loro credenze convenzioni e poi ero libera a un certo punto quando ho voluto io dire un figlio adesso anche qui oggi ci siamo che poi che poi va detto va bene che tutti dicono che i bambini sono belli però credetemi il bambino di quelle foto che Daniela ogni tanto mi manda questo il suo bambino veramente è bellissimo grazie 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 è la verità è la verità per me è bello per me è tutto ma va bene però ecco anche oggi nei nostri 28 minuti siamo riusciti ad andare sul personale tanto che ormai siamo così quasi 29 dai lasciamo le persone nella curiosità quindi continueremo ancora continuiamo con questi playmobil con queste situazioni che sono nostre ci appartengono quindi Daniela ti attendiamo con tanta gioia in un nuovo salotto io con gioia sicuramente arriverò in un nuovo salotto perché mi piace tanto mi dà una grande emozione fare queste cose perché si attiva un campo bello proprio bello che mi piace tanto e ho bisogno di emozionarmi in questo periodo e tu abbia detto questo mi gratifica parecchio e fidatevi che non è programmato ovviamente va bene un abbraccione un abbraccione a voi a te a tutti quanti grazie grazie ciao ciao ciao